A D'Arezzo la festa della musica diventa Guido Day, in omaggio ad uno dei suoi figli più illustri, Guido D'Arezzo, ideatore della scrittura musicale. Al Teatro Petrarca la premiazione di due importanti realtà musicali del territorio che hanno ricevuto il premio internazionale Guido D'Arezzo, una prestigiosa opera realizzata da Alessandro Marrone che la Fondazione Guido D'Arezzo conferisce a istituzioni o persone che hanno acquisito particolari meriti nel mondo della musica. I premi quest'anno sono andati ad Agimus Firenze per la meritoria ed efficace attività di promozione e divulgazione musicale ed in particolare per le numerose e lodevoli manifestazioni musicali proposte all'interno degli ospedali della Toscana e al maestro Francesco Corti per le qualità tecniche ed espressive che lo hanno portato a diventare uno dei punti di riferimento mondiali nell'ambito della musica antica per strumenti a tastiera. Grazie